E' arrivato alla fine il cigno nero, è arrivata alla fine la guerra, bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video, andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda i mercati, quello che sta succedendo in questi ultimi giorni, abbiamo visto il break, il crash, poi il rimbalzo, è un rimbalzo che ha un doppio significato, lo andremo ad analizzare in questo video ragazzi, perché questo è un video dove andremo a parlare di che cosa può succedere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nelle nostre vite di tutti i giorni, oltre che sui mercati ragazzi, perché i mercati sono uno specchio di quello che è la realtà e soprattutto anticipano di gran lunga quello che è la realtà, quindi quello che vedremo sui mercati nei prossimi mesi sarà quello che ci aspetta probabilmente per il prossimo anno. Quali sono le ripercussioni sul piano finanziario, sulla parte dei mercati, che cosa accade durante una guerra, durante un conflitto, questo tipo di conflitto è molto diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni, quelli che abbiamo visto negli ultimi anni sono stati un po' delle guerriglie, un po' diciamo pilotate da alcune questioni, quindi tutti gli assetti di natura economica e finanziaria erano sostanzialmente già controllati, questo invece è un conflitto completamente diverso, cambia in maniera radicale tutto quello che è l'approccio ai mercati, cambiano delle cose, delle logiche ragazzi, ci saranno delle ripercussioni soprattutto molto rilevanti per quanto riguarda la questione della inflazione. Ne parliamo oggi ragazzi, ma prima di andare avanti io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi i pollicioni ragazzi perché mi date una mano, e soprattutto se ci sono delle news particolari per dei momenti che magari saranno molto intensi, come vi avevo promesso nei video precedenti, andrò a scrivere delle chicche, delle cose su Twitter perché ci siamo più veloci ragazzi per fare queste cose, quindi alle analisi saranno, se c'è un'analisi in più o meno, saranno pubblicate su Telegram, se non faccio il tempo su YouTube, e poi messaggi veloci e brevissimi su Twitter, tutti i link in descrizione, sia Twitter che Telegram sono gratuiti ragazzi, ovviamente io sarò un po' in giro nei prossimi giorni, ma voglio stare appunto in contatto e soprattutto stare sul pezzo perché io penso che ci aspettano delle settimane molto molto interessanti. Allora partiamo intanto dalle considerazioni di natura teorica, che cosa succede con una guerra del genere, che cosa potrà succedere con la questione delle sanzioni, che stanno preparando alla lussia, quello che effettivamente saranno i risvolti che più, che in maniera più probabile possono andare ad intaccarci la nostra vita quotidiana, poi andiamo a vedere i mercati, come hanno reagito e soprattutto perché hanno reagito così, già vi spoilerò che la reazione attuale dei mercati è una reazione che andrà vista sotto lente di ingrandimento la prossima settimana, perché questa reazione qui è un po' farlocata, come sempre avviene ed è giusto che sia così, dall'immissione probabilmente dei blocchi da parte delle istituzioni in queste situazioni per evitare panico anche sui mercati internazionali, soprattutto la parte dell'Occidente, soprattutto in una situazione di questo tipo. Allora partiamo intanto dal primo punto ragazzi, cosa una guerra di questo tipo e soprattutto la conclusione praticamente assoluta e totale di ogni forma di contratti di natura commerciale di un certo tipo con il mondo asiatico, che cosa comporta sui mercati. Prima punto in questione ragazzi, la questione del petrolio e dell'energia. Schizza alle stelle il petrolio, schizza alle stelle per due motivi. Uno è la questione legata al fatto che la Russia è produttore di petrolio ma anche di gas naturale, in particolar modo di gas naturale. Per quanto riguarda l'Europa, una guerra e un break da parte delle forniture di gas naturale da parte dei russi in questo momento sarà un grave danno perché la Germania va al 90% in recessione in quanto la Germania prende moltissimo di gas naturale dalla Russia. È vero che la Russia non può non darci il gas, ma è vero che la Russia sembra essersi già preparata a quest'ipotesi con un nuovo alleato che è quello della Cina. Tra le altre cose ragazzi, tra pochissimi alla fine del video vi spiego anche un po' quello che è il concetto legato al fatto se per caso la Cina decide di mettere lo zampino o una cosa del genere. Quindi ci sono due modi di vedere queste settimane che verranno. Uno, tutto resta così, quindi solo sanzioni commerciali, la Russia distrugge gli armamenti, poi lascia l'Ucraina in situazioni accettabili e torna a casa. Allora c'è un discorso, se si allarga la questione, se è una vera occupazione cambia tutto. Allora per quanto riguarda, diciamo, petrolio, prima questione da vedere. Vi faccio già vedere quello che è il grafico del petrolio ragazzi, perché il grafico del petrolio è estremamente interessante in quanto tempo fa, adesso ve lo faccio vedere addirittura sul mensile ragazzi, perché sul grafico di time frame mensili, perché il petrolio lo scorso, i due anni fa diciamo con la questione della pandemia, aveva chiuso un ciclo di addirittura 21 anni storici, addirittura un ciclo chiuso in maniera negativa, quindi ribassista con questo break, ed è questo qui ragazzi. Questo è un ciclo di 21 anni, che praticamente è il ciclo base dei trend di lunghissimo periodo per quanto riguarda le commodity e questi asset che governano il mondo, e da qui è iniziata una nuova struttura ciclica, probabilmente di altri 20 anni. Quindi qui dal 2020 ci vorrà il 2040 per vedere questa cosa, se non che comunque all'interno di queste strutture cicliche ci sono poi dei sottocicli differenti di cui il triennale è quello più standard, quindi sembrerebbe che il mercato del petrolio sia salito, in effetti è salito questa settimana, vi faccio vedere lo spike che è avvenuto, vedete proprio a causa dell'invasione, c'è stato questo pump improvviso e poi un rientro immediatamente sotto i 90 dollari, quindi in realtà da un punto di vista di shock petrolifero non è che si sia visto tanto ragazzi, c'è, ci sono diversi motivi perché questa cosa è avvenuta, perché da una parte c'è la paura e quindi petrolio e gold vanno su, però poi pochissime ore dopo tutto si è ripristinato, in quanto c'è stato probabilmente un massiccio intervento da parte dell'intero occidente nel calmierare quelli che erano questi tipi di prezzo e nel non creare panico sul mercato, quindi nel non vedere gli affondi degli indici finanziari e nel non vedere le comoditi salire, quindi hanno bloccato lo shock petrolifero e probabilmente hanno fatto benissimo perché facendo così anche disinnescano quello che invece dall'altra parte della Russia vuole cioè un danno economico a tutto l'occidente dovuto proprio a questa questione quindi qui la guerra attuale secondo me è la prima volta che è una guerra definibile in versione commerciale le armi attualmente utilizzate al di là dell'Ucraina che sono, per fortuna anche lì sembrerebbero molto poche rispetto a una guerra di questo tipo, perché una guerra di questo tipo diciamo ragazzi dovrebbe, cioè farebbe proprio insomma danni seri sembrerebbe che in questo caso si stiano limitando a pochi danni purtroppo come sempre le guerre sono tutte dannifiche quindi in un modo o nell'altro non è mai buono però questo è un tipo di guerra ragazzi che secondo me si giocherà più da un punto di vista commerciale quindi i danni saranno gestiti a livello economico con botte e risposta tra occidente ed Asia e Russia in questo caso che andranno proprio a vedersi su questi grafici quindi in primis abbiamo questa, se questo conflitto si allungherà ci sarà un tentativo di far innescare una spirale rialzista sulle commodity come il petrolio e in particolar modo questa storia del petrolio e dei prezzi in generale quindi l'indice dei prezzi ne risentirà perché l'inflazione è il vero vero punto debole dell'occidente in questo punto in questo momento perché noi abbiamo un'inflazione che è molto alta a causa delle questioni di immissioni della volatilità da parte delle bacche centrali per gestire la pandemia adesso che l'inflazione è praticamente arrivata a un punto quasi ingestibile è attualmente gestibile però bisogna stare molto attenti un conflitto del genere innesca un pesante meccanismo di break di quella soia proprio sulla questione inflazionistica in quanto se le commodity come la soia la vediamo, vi faccio vedere anche la soia per esempio oltre al petrolio, anche la soia vedete stesso identico meccanismo quindi spike e poi rientro immediato all'interno di questo canale quindi il canale rialzista è la soia insomma eccetera anche questa quindi commodity di natura importante come la soia, il petrolio, il riso insomma eccetera sono schizzate su per poi rientrare allora se effettivamente Russia incomincia a creare danni sugli prezzi di petrolio, soia e tutte le componenti di natura diciamo di commodity importanti per l'Occidente facendone salire il prezzo quello che succede è che l'inflazione diventerà senza controllo quindi non sarà possibile per le banche centrali controllare i prezzi senza andare a imporre dei tassi alti che comunque manderebbero in forte recessione tutto l'Occidente provocandone danni serissimi questa è la vera guerra che si sta proiettando ragazzi sono le carte da giocare perché da una parte noi abbiamo le sanzioni contro la Russia che riducono pesantemente il potere di acquisto della Russia e la loro economia abbiamo visto, anzi ve lo faccio vedere, l'indice russo di ieri eccolo qui ragazzi, questo è l'indice di russo che è praticamente precipitato nella giornata di ieri anche qui c'è stato un break e poi un rientro adesso diciamo è ancora molto basso però vedete comunque dalla questione dell'intervento della Russia c'è stato anche il gap, è arrivato a meno 30 poi rientrato a meno 10 ovviamente qui c'è stato anche una doppia aiuto da parte della Russia quindi questo è il danno che la Russia deve gestirsi poi potrebbe rispondere con un danno inflattivo contro l'Occidente andando a controllare i prezzi del petrolio perché basta che chiude i rubinetti ragazzi e in penna gas naturale, petrolio, energia, costi di produzione creano uno shock petrolifero che va a agire sull'inflazione che è già in uno stato quasi non controllabile la questione si metterebbe malissimo peggio ancora nel momento in cui la Cina dovesse decidere di prendere le parti e ovviamente se lo fa ragazzi purtroppo prenderà le parti della Russia quindi se dovesse decidere di fare una cosa del genere bloccherebbe le produzioni potrebbe innescare un'ulteriore spirale inflazionistica nell'Occidente ragazzi che è veramente il grave grave problema allora questo è il gioco secondo me ovviamente a mio avviso ma chiaramente ragazzi moltissimi di voi hanno grandi anche conoscenze di macroeconomia scrivete nei commenti perché non è un video questo qui dove io vi spiego soltanto delle cose ma è un video anche di confronto perché la situazione è veramente veramente unica nella storia che è purtroppo molto drammatica ragazzi quindi scriviamo nei commenti date il vostro contributo parliamone insieme perché è molto bello confrontarci per capire anche quello che sta succedendo la comprensione è una luce che accendiamo in una stanza e può aiutare tantissime persone ragazzi online ma anche diciamo dal vivo quando poi magari parliamo con tante con gli amici eccetera quindi questi sono gli effetti di un conflitto di questo tipo se dovesse fermarsi tra poco e le sanzioni della parte dell'occidente ridursi la Russia non innescherebbe questo click è tutto finaliscio ragazzi cioè meglio purtroppo non per l'Ucraina che sta subendo questa cosa ovviamente però la questione legata a questa guerriglia fredda di natura commerciale finirebbe velocemente qualora questa cosa non dovesse avvenire purtroppo i prossimi mesi saranno complicati anche per l'occidente perché la Russia tenterà di imporre danni pesanti all'occidente attraverso la spitta inflazionistica abbiamo visto come i mercati hanno risposto all'impennata del petrolio hanno immediatamente risposto facendo riassorbire perché ragazzi? perché per fortuna l'occidente è molto forte anche nel controllo di commodity come petrolio e soia in quanto a molti alleati che producono tantissimo petrolio quindi qualora volesse anche imporre o bloccare il prezzo riuscirebbe a farlo e quindi questa guerra un po' la Russia forse non ha le armi giuste mentre la parte finanziaria è molto più forte quella dell'occidente rispetto a quella asiatica perciò i danni probabilmente commerciali sarebbero più per la Russia o meno quindi il fatto che nella scorsa giornata il petrolio sia rientrato non significa tantissimo ragazzi anche loro vedete boom boom il contrario di bitcoin vi faccio vedere la total market cap vedete il crash e poi il reprice ai stessi prezzi di qualche giorno prima vediamolo sui prezzi veri vedete quindi crash quindi flash crash e poi rientro una giornata che a dire la verità per quanto riguarda le cripto è anche una giornata estremamente normale perché le cripto sono abituate però in questo caso non risposto molto bene perché poi la questione è legata al fatto che cosa può fare bitcoin in un concetto del genere ragazzi abbiamo una situazione che si da una parte produce danni all'economia in generale e dall'altra però la spinta sull'inflazione è la vera miccia del discorso e sappiamo bene quanto bitcoin sia anti-inflazione quindi da un certo punto di vista ancora una volta la nostra amatissima criptomoneta diventa un bene da tenere sotto controllo ragazzi è molto ad occhio perché potrebbe essere molto difensivo in questa fase e quindi magari subire in ogni caso i ribassi magari degli indici se avviene un crollo magari degli indici come i tecnologici americani eccetera ma allo stesso tempo questo crollo probabilmente potrebbe essere minore rispetto a quello che si possa pensare proprio perché se la spinta inflazionistica dovesse peggiorare bitcoin è un asset ragazzi e in questo caso è protezionista cioè ci protegge contro la questione inflattiva quindi queste cose nel medio-lungo periodo poi pesano in un modo o nell'altro stabilizzando quella che è la quotazione di bitcoin andiamo a vedere anche la questione legata al dollaro perché anche il dollaro che è un bene di fuggio ha avuto lo spike al rialzo vedete è l'indice del dollaro americano quindi dollaro americano bene di fuggio è andato ai massimi storici quelli che ha toccato qualche scusate i massimi relativi di questo ciclo dopo la questione pandemia ed è arrivata diciamo lì ragazzi quindi dal ciclo che è iniziato l'anno scorso a gennaio dove il dollaro dopo la questione pandemia aveva iniziato a svalutarsi vedete quindi e poi ha ripreso invece un ciclo rialzista il dollaro è in ascesa ragazzi in questa fase quindi sta completando quella che è una metà parte di quello che è un ciclo di natura rialzista quindi si sta rafforzando sulle altre monete questo sia per l'exit strategy sia per la questione legata al fatto che è un bene rifugio allora se dovesse intervenire una questione di inflazione importante noi dovremmo vedere prima di tutto un'inversione di tendenza sul dollaro in maniera tale che il dollaro dovrebbe iniziare a scendere perché si pensa che la banca centrale tenterà di svalutarlo per la ripresa economica oppure se invece la questione di inflazione abbia e viene aggredita dalla banca centrale molto più forte allora a quel punto avremmo una continuazione di questo trend quindi in un caso nell'altro un trend sul dollaro ragazzi può avere una duplice funzione se i danni economici sono molto elevati probabilmente inizieranno inizierà a scendere quindi perderà un po' di valore ma fin tanto che continuerà a crescere probabilmente funge sia da bene rifugio sia da una logica di anti-inflazionistica ragazzi quindi un po' anche qui dollaro insieme a bitcoin un po' tutte le valute cioè quelle che hanno il valore di protezione da una crisi del genere sono a doppia spinta da una parte una cosa che spinge verso il giù dall'altra in mezzo un'altra che spinge verso il su quindi un po' più di stabilità dovremmo dovremmo averla andiamo a vedere il gold che invece vi faccio vedere anche lui ha avuto il pump dovuto alla questione della guerra come sempre il gold è molto molto visto come protettivo però ancora molto distante dai massimi di agosto del 2020 e dalla questione pandemica molto distante da questa zona dei 2000 dollari per oncia è ancora un po' diciamo in fase deboluccia quindi in sostanza al momento tutto quello che è la questione legata ai mercati è stata controllata dalle banche centrali secondo me ragazzi che sono intervenute proprio a bloccare il danno vi faccio vedere Nasdaq 100 che cosa ha fatto ha fatto una settimana questo è un weekly con un flash crash improvviso con il riassorbimento l'ultima volta che aveva fatto una cosa del genere vedete che cosa è successo poi nelle settimane successivo solitamente queste candele non sono buone sono candele pilotate fatte in modo da prevenire quella che è una crisi prevenire quello che è un momento particolare ma non sempre poi coincidono con dei minimi importanti quindi è la prossima settimana che date le indicazioni vere quando non ci saranno le mani forti probabilmente delle banche a calmierare i mercati e soprattutto se il weekend è portatore di buone notizie allora è un discorso se il weekend è portatore di non buone notizie o peggiorano i rapporti con Russia e tutto il resto allora ragazzi io penso che nelle prossime settimane dovremmo stare molto molto attenti questo è il concetto che volevo farvi passare e quindi da un lato abbiamo per riassumere questione inflazionistica una guerra legata alla parte economica secondo me si svolgerà così da una parte se non la vogliono portare a termine in breve tempo ci sarà la spinta inflazionistica dall'altra il tentativo di far cresciare l'economia della Russia in maniera tale che purtroppo saranno poi portati a un'assenza proprio di di fondi però qui interviene un altro punto interrogativo che farà la Cina ragazzi allora questa è la questione in questo momento e secondo me difficilmente la Russia ha tentato una cosa del genere senza sapere già che cosa farà la Cina cosa ne pensate voi e soprattutto scriviamolo nei commenti forza Bitcoin si è comportato bene la prima volta stringiamo i denti può essere pure che nei prossimi settimane avremo un'inversione di trend in quel caso vai a Google perché il trend is your friend ragazzi però noi ci vediamo nel prossimo video e fatemi sapere anche quello che pensate voi su questa situazione veramente complessa ragazzi ci sto pensando da tanto tempo quante carte da scoprire e dovremmo vedere un po' che cosa succedrà speriamo che si fermino le bombe già questo sarà un grandissimo risultato e un passo avanti per l'umanità perché sembra proprio non imparare mai nessuno di noi sembra imparare mai dei propri errori ciao ragazzi grazie a tutti